Torna la colletta del Banco Alimentare, Regione Abruzzo al fianco dei volontari che sabato saranno a lavoro in tanti punti vendita della nostra Regione. È un gesto che possiamo fare tutti e che davvero costa poco tempo a tutti perché la spesa la facciamo e quindi davvero è un gesto semplice, facile, che produce solo tanto amore e effetti concreti. La Regione Abruzzo dà un cospicuo fondo per il sostegno alimentare ogni anno ma il fondo dovrebbe essere ogni anno più aumentato, più cospicuo proprio perché le povertà nel nostro Paese e nella nostra Regione non tendono a diminuire, anzi aumentano. Oltre alla colletta alimentare c'è anche questa iniziativa, vediamo questa scatola in mano, un'iniziativa fortemente voluta dal suo assessorato. Sì, devo dire spinta però dagli amici del Banco Alimentare abbiamo approvato una legge contro lo spreco alimentare introducendo una serie di novità e poi grazie agli effetti di questa legge siamo riusciti a consegnare centinaia di box a tutti i ristoratori in modo da consentire ai ristoratori di poter dare ai clienti che non consumavano il pasto nel ristorante questo box per poterlo riportare a casa. Torna la colletta alimentare del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise, un'iniziativa che ormai dura da tanti anni ma i numeri dicono che ogni anno aumentano sempre i cittadini che hanno bisogno del vostro aiuto. Purtroppo i numeri sulla povertà assoluta non sono diminuiti ma sono cresciuti, secondo i dati Istat nel 2017 pari a oltre il 10% della popolazione italiana, quindi oltre 5 milioni di famiglie purtroppo che vivono in questo disagio forte, quotidiano. Con il gesto della colletta si può fare un qualcosa di utile e soprattutto si può condividere un pezzetto come dire di sofferenza, anche spesso di delusione che tante persone hanno nella loro quotidianità perché hanno seri problemi economici ma non solo economici, di solitudine e quant'altro. Noi attraverso la giornata della colletta riproponiamo questa possibilità che fare del bene è facile e soprattutto è la condivisione con chi non sta nelle stesse nostre condizioni.